Che non fosse certo la stagione migliore per il comparto rivicolo era ben noto, purtuttavia in tanti speravano di poter almeno trarre qualcosa di buono da quel poco che c'era. Tuttavia, nonostante le ondate di maltempo e in particolare quanto accaduto tra il 28 e il 29 ottobre, ha reso ancora più critica la situazione che di per sé già lo era. In questo senso, da Olette, il giovane imprenditore Cristiano Adesso, in una missiva inviata tra gli altri, al ministro dell'agricoltura e delle politiche agricole, ha richiesto l'attivazione di tutte le procedure necessarie al riconoscimento dello stato di calamità naturale. Sono qui, scrive Adesso, in rappresentanza di numerosi imprenditori e titolari di Frantoi. Il nostro è un territorio a forte vocazione agricola e la maggior produzione riguarda il comparto olivicolo e quest'anno vari fattori hanno reso quasi nulla la produzione dell'olio extravergine d'oliva. Le avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato la provincia nei giorni 28 e 29 ottobre hanno causato la caduta di tutte quelle olive che, seppur in minima parte, erano ancora presenti, causando molti danni, come ad esempio la mancata produzione del nostro ottimo olio d'oliva, la mancanza di lavoro per i numerosi braccianti del territorio che vivono alla giornata e lo stesso vale per i Frantoi presenti che hanno chiuso o visti i danni. Per quanto esposto, chiude la nota, chiedo l'attivazione di tutte le procedure utili al riconoscimento dello stato di calamità naturale, visti moltissimi danni al territorio, dando moda a noi imprenditori agricoli, conclude Adesso, di poter far fronte ai danni subiti alla conseguente perdita di risorse economiche.